Nel video di oggi andiamo a vedere come sfruttare il pannello trasforma in Affinity Designer. Ho già disegnato una figura che vado a selezionare e posso andare ad agire su questa figura grazie al mio pannello trasforma che di solito si trova in basso a sinistra. Se non avete il pannello trasforma aperto basta che andiate su finestra e dovete selezionare il pannello trasformazione che nel mio caso è già aperto e quindi non devo andare ad aprirlo. Allora selezionata la mia figura io grazie al pannello trasforma posso modificare alcune cose. Ad esempio posso modificare la posizione del mio oggetto sulla tavola da disegno in maniera molto precisa andando ad agire sulle X e sulle Y che mi indicano le X la distanza dai margini laterali mentre le Y la distanza da sopra e da sotto. Quindi ad esempio se io su X metto 50 e primo su invio e su Y metto 70 e premo su invio vedete che mi si è spostata la mia figura in questo modo molto preciso. Grazie al pannello trasforma posso anche modificare le dimensioni in modo estremamente preciso. In questo caso io ho un oggetto che ha questa larghezza e questa altezza. Se clicco ad esempio sulla larghezza e scrivo 700 e premo su invio vedete che mi si è modificata sia l'altezza che la larghezza. In questo caso mi si sono modificate insieme anche se ne ho modificata solo una perché io avevo già selezionato il blocco a proporzioni e quindi mi ha bloccato le proporzioni del mio oggetto. Ma se io sblocco le proporzioni del mio oggetto posso andare a modificare indipendentemente larghezza e altezza. Quindi ad esempio metto 500, premo su invio e poi qua metto come altezza 200 e premo su invio e vedete che l'ho modificata indipendentemente l'una dall'altra. Ora però le voglio andare a ribloccare per farvi vedere un'altra cosa. Grazie al pannello trasforma posso modificare le dimensioni dei miei oggetti in maniera molto precisa utilizzando le percentuali. Se ad esempio voglio una figura che sia più piccola di questa ma che voglio che sia esattamente il 25% di questa figura basta che io in uno dei due pannelli, ora che sono bloccati, scrivo 25% premo su invio e vedete che mi ha modificato in maniera estremamente precisa le dimensioni del mio oggetto. Ora vado a riselezionarlo e faccio la stessa cosa ma ingrandendolo e vado a scrivere ad esempio 250% premo su invio e avrò quindi una figura che è il 250% rispetto alla mia figura di prima e quindi me l'ha allargata in modo molto preciso. Un'altra cosa che posso fare con il pannello trasforma è qui dove c'è la R e andare a ruotare in maniera precisa il mio oggetto quindi ora scrivo ad esempio 56, premo su invio e quindi ho ruotato la mia figura di 56 gradi in questo caso è anche uscita dalla mia tavola da disegno e ora la sposto. In realtà io posso modificare anche il punto in cui ruota il mio oggetto il punto in cui si sposta il mio oggetto grazie a questa figura che vedete qui. Allora ora rimetto allo 0% la mia figura e vedete che io posso scegliere il punto qua sopra rispetto al quale vengono calcolate e calcolato il mio spostamento. Per esempio vedete che se io seleziono qua la x è 359 ma se seleziono qua la x è 671 perché me la conta dall'altro lato e quindi io secondo poi dove il punto in cui seleziono avrò la rotazione, avrò lo spostamento, avrò l'ingrandimento della mia figura in maniera diciamo precisa rispetto all'angolo di origine di partenza. Quindi ad esempio se io voglio che l'oggetto ruoti su se stesso devo selezionare la parte centrale poi clicco qua e scrivo 75, premo su invio e vedete che la rotazione è avvenuta lungo il punto centrale. L'ultima cosa da farvi vedere del pannello trasformazione è questa parte qua. In sostituzione scala io ho diverse opzioni che posso selezionare, lo spessore linea, l'angolo della forma, i raggi e i contenuti di cornice di testo e posso decidere se scalare queste impostazioni con l'oggetto oppure bloccarle. Devo pigiare diciamo qua sopra e in questo modo ho attivato la sostituzione scala. Quindi grazie al pannello trasforma potete avere delle trasformazioni molto più precise basandovi sui numeri e in alcuni casi questa cosa può risultare estremamente utile. Se questo video vi è stato utile vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Anche per oggi è tutto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!